Il ruolo dell'Italia rimane quello del mediatore in questa situazione ha detto oggi. Guardi, il ruolo con cui si è contraddistinta l'Italia nel suo impegno all'estero è sempre stato quello. L'approccio italiano è sempre stato quello del dialogo, della pace, del rispetto, della tolleranza. È quello che ci contraddistingue in ogni missione internazionale, ci ha contraddistinto in questa parte del mondo a livello militare, come difesa e ci contraddistingue a livello diplomatico. Per cui assumiamo una tradizione che nel nostro paese non è recente, ma è molto antica. Grazie. Grazie.